Amiche ed amici bianconeri, benvenuti nella nuova rubrica Moralizzatore & Friends. Iscrizione al canale e fino alla fine, forza Juve! Ciao a tutti, mi chiamo Filippo Vagli del canale YouTube Frammenti Bianconeri Channel. Mando un saluto a Moralizzatore Bianconero. Nel video di oggi vi voglio parlare del grande colpo messo a segno da Cristiano Giuntoli per la sua nuova Juventus. Mi riferisco a Douglas Luiz che dopo essere stato cercato insistentemente dall'Arsenal, oltre che da altre squadre, ma era soprattutto l'Arsenal, è chiaro il suo giocatore, ha deciso di vestire la maglia bianconera per i prossimi 4-5 anni, vedremo insomma quando verrà depositato ufficialmente il contratto. E quindi per il video di oggi voglio addentrarmi nel profilo di questo calciatore di prima fascia internazionale dando un'occhiata a chi è, quelle che sono le sue principali caratteristiche. Vi darò qualche numero relativo alla sua ultima stagione in Premier League, vi elencherò anche qualche difetto, perché come ogni giocatore del mondo, anche brasiliano, ha dei difetti. Vi proporrò un'interessante comparazione con un attuale centrocampista della Juventus e vi dico come a mio avviso verrà impiegato nella Juventus. Allora partiamo da chi è. Nasce a Rio de Janeiro, il 1998, 26 anni, 1,77 m d'altezza, giocatore che cresce nel vivaio del Vasco de Gama. Nell'estate del 2017 entra nella galassia Manchester City. Manchester lo acquista per 12 milioni di euro, lo gira in prestito alla sua squadra satellite spagnola, il Girona, club della Liga che è gestito dal fratello di Pep Guardiola. Al City in realtà il giocatore non approderà mai, dal momento che nell'estate 2019 viene ceduta la Stoneville per la cifra importante di 17 milioni di euro. Fin dal suo esordio, oltremanica, Douglas Lewis si è imposto come protagonista nella crescita dell'Aston Villa che ha avuto negli ultimi cinque anni. Aston Villa che nell'ultimo quinquenni è passata dal diciassettesimo posto fino ad approdare la Champions League ottenuta nella stagione appena terminata con Unai Emery in panchina. Oggi a 26 anni Douglas Lewis è nel pieno della maturità calcistica. non solo viene da un'annata straordinaria a Birmingham ma nella squadra, come vi ho detto, è una rivelazione della Premier League ma è diventato anche un titolare della nazionale brasiliana. Se le Sao, di cui aveva già fatto parte a livello giovanile olimpico, aveva vinto la medaglia d'oro all'Olimpiada di Tokyo nel 2020 per poi fare il proprio esordio nella nazionale maggiore nel 2009 giocando la Coppa America nel 2001 e proprio in questi giorni sta giocando la Coppa America. Passiamo alle principali caratteristiche. È il classico centrocampista brasiliano molto completo di quelli che abbinano tecnica a qualità atletica importante, bari centro-basso, marcate doti di esplosibilità, perfetta gestione del corpo nei cambi di direzioni ma è soprattutto il grande controllo di palla che lo contraddistingue e che gli consente di accelere nel dribbling negli spazi stretti sia a livello di controllo pure del pallone ma come abbiamo detto poc'anzi anche nel dribbling. Grande capacità di sfuggire alla pressione dell'avversario riuscendo a uscire spesso da situazioni complesse anche proprio in conduzione verticale del pallone anche quando viene raddoppiato. Buona parte della sua crescita a questo giocatore è crescita esponenziale. Il giocatore la deve al suo tale allenatore Unai Emery, allenatore a mio avviso tra i migliori attualmente in circolazione. Pensate che prima dell'arrivo dell'ex tecnico del Villareal all'Aston Villa Douglas Lewis veniva schierato come perno centrale davanti alla difesa per sfruttare la sua capacità di giropalla grazie a una pulizia tecnica veramente importante però sappiamo che il ruolo di perno davanti alla difesa in un centrocampo a tre è un ruolo piuttosto statico e questo non andava molto bene soprattutto per un calciatore che fa del dinamismo una delle sue armi migliori. Emery, intuendo che il ruolo ne limitava le potenzialità lo ha spostato in avanti ha alzato la sua posizione in campo concedendogli maggiore libertà proprio per poter sfruttare il suo ottimo timing negli inserimenti in area di rigore sia con la palla tra i piedi che senza palla caratteristica quest'ultima che grazie a delle doti istintive importanti gli consente spesso e volentieri di andare a rete cosa piuttosto rara e importante per un centrocampista il classico centrocampista che in Premier League definiscono box to box vale a dire uno di quei giocatori capaci di fare più cose in una partita spaziando per l'intero terreno di gioco mettendo in mostra la creatività di cui dispone l'abilità col pallone tra i piedi giocatore destro naturale ma che calcia bene anche con il sinistro ottimo calciante come si suol dire qualità quest'ultima che gli consente di calciare direttamente in porta quando riceve palla pochi metri fuori dall'area di rigore e quando ha un po' di spazio libero davanti a sé per ultimo ma non ultimo grande temperamento cosa che lo rende un giocatore leader dentro il campo a tutti gli effetti vi do qualche numero come vi dicevo a inizio video l'arrivo all'Aston Villa di Emery ha fatto un pochino da spartiacque anche relativamente ai numeri del giocatore pensate che nelle due stagioni passate al Girona in Liga Douglas Lewis non aveva messo a segno nemmeno un gol nelle prime tre stagioni all'Aston Villa prima dell'arrivo di Emery Lewis aveva messo a segno complessivamente cinque gol e fornito osto assist ai compagni di squadra nelle due stagioni con Emery in panchina il centrocampista brasiliano ha messo a segno complessivamente diciassette gol ha sfornato sedici assist numeri veramente di tutto rispetto che dimostrano la crescita esponenziale di questo ragazzo stagione ultima quella appena conclusa strepitosa dieci gol nove in Premier uno in Conference League dieci assist cinque in Premier quattro in Conference e uno in FA Cup giocatore che era preposto a battere tutti i calci d'angolo così come tutte le punizioni dell'Aston Villa a testimoniare la qualità di calcio rigorista designato della squadra quattro dei suoi gol in questa stagione sono arrivati dagli undici metri 0,28 il suo dato fra expected goal e expected assist ogni 90 minuti cinque passaggi lunghi lanci lunghi completati per 90 minuti che l'hanno reso uno dei migliori giocatori della Premier relativamente ai cambi di gioco fatti specie nella quale il giocatore eccelle e poi una percentuale di precisione dei passaggi ottima l'89% come abbiamo detto il giocatore ha anche dei difetti ovviamente la fase difensiva senza ombra di dubbio è la principale lacuna diciamo che balza all'occhio relativamente a Douglas Lewis attenzione non è un giocatore che non sa difendere o che non aiuta per nulla perché comunque con 5,53 palloni recuperati per 90 minuti è nella media del ruolo in Premier League non è male nel leggere le traiettorie di passaggio dell'avversario ma al di là di questo quando dicevo che la fase difensiva non è il suo forte è perché Douglas Lewis oggi non eccelle nei contrasti riusciti non eccelle negli intercetti non eccelle nei duelli difensivi vinti buona l'intensità quando va a riaggredire alto l'avversario ma non è sempre prontissimo e attento quando deve adoperarsi in caso di transizione negativa quindi insomma una serie di difetti che effettivamente sconsiglierebbero di schierarlo come vertice basso davanti alla difesa non è un caso che un fine conoscitore di calcio e un fine stratega come Emery di Norma gli affiancasse sempre un centrocampista con maggiori doti di incontrista un giocatore che fosse in grado di coprirgli le spalle in modo da limitare attraverso questo stratagemma tattico questi suoi limiti proprio di fase difensiva è un giocatore che va coinvolto lasciandogli più possibile il pallone fra i piedi perché in questo Douglas Lewis tornerà sicuramente molto molto utile al calcio di Tiago Motta un allenatore l'ex tecnico del Bologna che al di là dei moduli come filosofia di gioco tende a dominare il processo palla proprio per avere un gioco dominante strategia quest'ultima che dovrebbe mitigare le lacune difensive di questo centrocampista brasiliano perché chiedendogli di difendere più aggredendo in avanti che correndo all'indietro si potrebbe trasformare il suo punto debole a un punto di forza la sua capacità di essere dinamico e di dinamismo anche senza palla come potete vedere nella miniatura che ho messo qui a fianco queste sono le sue zone light map le zone dove maggiormente calpestate dal giocatore vedete che siamo centro un pochino più sul centro-sinistra 15-20 metri dietro la lunetta di metà campo 15-20 metri avanti dalla lunetta di metà campo come vi dicevo un giocatore veramente a tutto campo vi parlavo di una comparazione perché il sito SofaScore sito specializzato in statistiche riguardo i vari calciatori valorizza ogni giocatore con una scala di punteggio che serve a misurare una serie di parametri utili per la valorizzazione di un calciatore precisamente la capacità offensiva la creatività l'attitudine nella fase difensiva le capacità tattiche e le qualità tecniche e per farvi capire di che giocatore stiamo parlando ho pensato di farvi vedere come SofaScore raffronta Douglas Lewis con Adrian Rabiot giocatore che conosciamo perfettamente ecco Douglas prevale per qualità offensive 65,62 il coefficiente di Douglas Lewis rispetto a quello di Adrian Rabiot prevale per creatività 73 a 63 prevale per qualità tecniche 67 a 70 mentre invece è Rabiot a prevalere per capacità difensiva 66 a 45 e per capacità tattica 69 contro 56 e quindi insomma in relazione ad Douglas Lewis è evidente che parliamo di un giocatore con caratteristiche prettamente offensive di grande tecnica dalla grande creatività con qualche limite a livello difensivo ma con evidenti margini di crescita ripeto sia per quello che riguarda le capacità tattiche che la fase difensiva come verrà impiegato nella Juventus io credo che a fronte di queste considerazioni la Juventus di Tiago Motta potrebbe essere schierato come mezzala in un centrocampo a tre addirittura potrebbe essere schierato anche come sottopunta ma perché noi una coppia di mediani in un centrocampo a due in quest'ultimo caso magari non magari sicuramente a fianco di un giocatore con più caratteristiche più difensive rispetto a lui nel Bologna di Tiago Motta spesso si utilizzavano mezzali tecniche dinamiche con e senza palla dominanti da un punto di vista atletico con l'idea proprio del tecnico italo-brasiliano di prevalere il più possibile nei duelli individuali e poi inserirsi in area provenendo dal centrocampo insomma un profilo di centrocampista che aderisce perfettamente alle caratteristiche di Douglas Lewis ma non solo le caratteristiche del brasiliano sono anche praticamente abbastanza inedite per l'attuale rosa dei centrocampisti bianconeri perché parliamo di un giocatore nettamente più tecnico e più abile con la palla ai piedi rispetto alle mezzali dello scorso campionato vale dire a Rabiot e McKennie ma anche a Locatelli ma nello stesso tempo un giocatore molto più corazzato fisicamente atleticamente rispetto ai fagioli o ai miretti giocatori quest'ultimi che non sappiamo se rimarrà a Torino anche per la prossima stagione ma nel caso giocatori che saranno perfettamente integrabili al brasiliano a livello di caratteristiche bene per questo è tutto per quanto riguarda il profilo di Douglas Lewis Filippo Vagli del canale YouTube Frammenti Bianconeri Channel vi saluta ringrazio Moralizzatore Bianconero per avermi dato la possibilità di descrivervi il forte centrocampista brasiliano e auguro a tutti una buonissima giornata grazie a tutti